Con l'ennesimo rinvio del Pineto che non permetterà la sfida del Mariani Pavone contro Lava stese la quarta giornata del girone di ritorno in Serie D vedrà ancora una volta solamente tre abruzzesi in campo. Due che hanno recuperato mercoledì, alcuni dei match rinviati nelle settimane scorse. L'unica che non ha recuperato mercoledì è il Castelnuovo che va al Civitelle sul terreno di gioco di quella agnonese battuta in settimana per 2-3 dalla Giulianova. Alto Molisani in clamorosa difficoltà a tre punti in classifica e Nero Verdi che sul fronte opposto qualche ora fa hanno salutato Lorenzo Sbarbati che si è trasferito a Vado Serie D ma girone A. Con l'addio dell'attaccante destinazione Liguria il Castelnuovo avrà una freccia in meno davanti ma l'undici di Guido Di Fabio ha dimostrato di saper fare molto bene anche senza le due bocche da fuoco che aveva individuato ad inizio anno. Lo stesso Sbarbati e Titone già da qualche settimana ha recanati. Dopo il successo rocambolesco con l'agnonese per il Giulianova gara interna contro il Tolentino che ha bloccato mercoledì la corsa del notaresco. Giallorossi rinfrancati dai tre punti ottenuti in Molise che lanciano la squadra di Bitetto verso una rincorsa salvezza ancora complicata ma non impossibile. Il Giulianova a centrocampo dovrà rinunciare a De Cerchio espulso al Civitelle fermato per un turno dal giudice sportivo. Così come dalla parte opposta il doppio giallo del Vincenzo Savini toglierà Tizzi dalla disponibilità dell'allenatore Cremisi. I giallorossi devono cercare di ottenere la posta in paglia intera perché finora mai tra Fadini e Castrum sono riusciti a centrare i tre punti sul campo amico. Solo due pareggi con il Fiuggi e Vastese, troppo pochi per poter costruire la rimonta. E proprio il Fiuggi sarà l'avversario del notaresco fermato dal Tolentino mercoledì. La squadra di Massimo Epifani non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica salvata nel secondo tempo dal solito Banegas sempre più leader nella classifica dei marcatori. I laziali hanno avuto la possibilità di preparare il match senza infrasettimanale di recupero e sono formazione ostica come ha dimostrato domenica scorsa all'Aragona. I rosso-blu sul fronte opposto sono a meno tre dalla capolista a campo basso ma adesso con una gara in più disputata, 19 contro 18. Il rischio è che non sfruttare tutte le occasioni a disposizione possa dare strada libera ai molisani di Mirko Cudini. Per questo serve risultato pieno al capo Iprati. Sempre più complessa la situazione in Casa Pineto per la programmazione dei recuperi visto che le gare non disputate dai biancazzurri con quella di domani diventano addirittura otto. Difficilissimo da qui in avanti trovare gli slot per coniugare turni di campionato e recuperi in serie. Il primo potrebbe essere tra otto giorni contro l'Olimpia Agnonese, per questo la sosta consente di programmare una settimana intensa. Mercoledì 10 infatti si recuperano Porto Sant'Elpidio Olimpia Agnonese, Matese Giulianova, Rieti Montegiorgio e Vasto Girardi Tolentino. Domenica oltre ad Agnonese e Pineto in programma anche Castelfidardo Fiuggi, Porto Sant'Elpidio Montegiorgio e Campobasso Recanatese.